Sotto vuoto che veramente è una cosa che è importante, ho messo questo tracking legato solo al piedino del motore e ho asperato, c'era questo tracking che ogni quattro ore ci dava la posizione, siamo ritornati in Brasile, c'era una barca che era disponibile ad andare, ci ho detto di no, quindi cercano un'altra, abbiamo avuto un pescatore che ci portava lì, mentre andavamo dopo 50 ore si è messo di funzionare al tracking, dopo 36 ore siamo arrivati ma l'arco di ricerca era veramente troppo grande, per quanto riguarda una situazione di recupero, una barca così lenta, lo spazio era veramente troppo, troppo grande, ci abbiamo provato il primo giorno con dei punti stimati, il secondo e l'abbiamo persa, però secondo me galleggia è diventata qualche parte, speriamo, non lo faccio più. Ringrazio Stefano lì giù che veramente bisogna fargli un monumento perché l'assimulazione in questo caso ha funzionato ed è importante anche quello, alla fine c'è un consolo però è importante che si guarda avanti col sorriso e si fanno nuove per tutti. Grazie. Luca, allora... Siamo pronti per aprilezzare le giudizioni. Questo ti sembra a te, no? Sì. O io lo porti tu sul tuo mondo. Allora, sì. Eh, ma se guarda, io lo dà io subito a chi gli serve, cambiamo solo le batterie. No, no, ce ne mangio le batterie per le proprio. Che sicurezza. Perché ci sono quasi un'altra. Sì, sì, sì. Ok. Ti è, lui di chi è? Ok, buona. Grazie. Quando volete, c'è lui. Ti ho detto, qua. Ciao, ma... Eh, vuoi. Voi? Va? Sì, io... Excuseui. Brava. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.